Buongiorno ragazzi, questa è una delle mie prime lezioni online che sto per fare in questa classe, la classe quarta P. L'argomento che tratterò in questa lezione è praticamente potatura alberi da frutto, che si riallaccia agli argomenti trattati dalla professoressa grassi, per quanto riguarda gli alberi da frutto, il pero, melo, eccetera. Qui tratteremo nello specifico del pero. Allora innanzitutto volevo partire da, diciamo, anzi no, aspettate, innanzitutto mettiamo il professor Coccia, allora vediamo un po', devo trovare il professor Coccia, professor Coccia, recenti, vediamo un po' se lo trovo, questo è professor Coccia, eccolo qua. Allora, intanto dovete rispettare questo mino, perché questo mino rappresenta me in questa lezione online e questo mino lo metto qua e controllerà se voi state attenti oppure no. Ok? Allora, dicevo, questa lezione, questa prima lezione sarà più che altro una lezione proprio deutica per farvi capire alcuni concetti base dell'arboricoltura, logicamente, e quindi anche delle piante da frutto. Allora, intanto partiamo dalla classificazione scientifica del pero. Allora, il pero innanzitutto possiamo dire che è un organismo appartenente agli eucarioti autotrofi pluricellulari. Allora, eucarioti perché? Perché è un organismo, la pianta di pero, formato soltanto da cellule eucariote, logicamente, le cellule eucariote rispetto alle cellule eucariote sono cellule più evolute. Ok? Le cellule eucariote possono essere pluricellulari e unicellulari, la cellula prokariote, logicamente, essendo una cellula primordiale, è una cellula, possono essere solo cellule unicellulari. Quindi abbiamo detto che è un organismo appartenente agli eucarioti, autotrofi, autotrofi perché, logicamente, essendo una pianta, cosa fanno le piante, cosa fanno la fotosintesi clorifiliana, quindi producono sostanze nutritive per la loro vita. Pluricellulari perché sono costruite da molte cellule, da milioni, miliardi di cellule. Angiosperma, pianta seme protetto, che significa? Significa che il seme, che sarebbe l'embrione, che è il prodotto della fecondazione sessuale, viene protetto dal frutto. Questo è un frutto di pero, i semi, come sapete, si trovano all'interno del frutto. Quindi è una pianta arborea, complessa, formata da tre organi principali, che sono apparato radicale, fusto e apparato fogliare. Qui ho fatto un piccolo disegnino dove si schematizza quali sono gli organi principali delle piante arboree. Il pero è una pianta arborea, quindi il pero è formato, come tutte le piante arboree, da un apparato radicale, da un fusto e da un apparato fogliare. Se voi vi ricordate dagli studi che avete fatto di istologia vegetale, vi ricordate che l'apparato radicale ha la funzione di ancorare la pianta al suolo e di portare sostanze nutritive dal suolo alle foglie, quindi all'apparato fogliare. Il fusto ha una duplice funzione, che è quella meccanica, quindi di sostenere la pianta e di trasporto, quindi di trasporto dei nutrienti dal suolo all'apparato fogliare. L'apparato fogliare ha la funzione di trasformare tutte le sostanze nutritive trasportate all'interno della foglia, quindi quali sono le sostanze nutritive? sono fondamentalmente acqua e sali minerali, affinché possa avvenire la fotosintesi clorifiliana. Ok? Quindi, una volta che l'infacrezza arriva alle foglie, viene elaborata attraverso la fotosintesi clorifiliana, queste sostanze che vengono prodotte attraverso la fotosintesi clorifiliana e vengono trasportate lungo tutti i tessuti della pianta. Basta che vi ricordate che i tessuti di trasporto, essendo una pianta complessa, sono formati essenzialmente da xylema, che porta le sostanze nutritive dalle radici, anzi dal suolo alle foglie, e dal phloema, che porta le sostanze elaborate a tutti i tessuti della pianta. Ok? Quindi, detto questo, possiamo dire che il pero fa parte della famiglia delle rosacee e del genere Pyrus. Quindi, adesso vediamo che, infatti, una caratteristica di questa famiglia è il fiore. Il fiore delle rosacee è un fiore pentamero. Che significa? Un fiore pentamero significa che è formato dai cinque pedali. Ok? Uno, due, tre, quattro e cinque. Come potete vedere, in questo disegno, in questa immagine, io ho messo un'infiorescenza del pero, ho messo una struttura del fiore del pero, l'infiorescenza, e ho messo questi tre tipi di ovario. Allora, voi vi ricordate, innanzitutto, le piante, tutte le piante si riproducono sessualmente, ok? In modo naturale, e gli organi riproduttivi sessuali delle piante sono fondamentalmente uguali, il gineceo e l'androceo. Oh, questo è un fiore ermafrodita. Perché ermafrodita? Perché questo fiore contiene tutti e due gli organi maschili e femminili. L'organo maschile e femminile. Qual è l'organo maschile e qual è l'organo femminile? L'organo maschile è la somma di tutti quanti gli stami che si trovano all'interno del fiore, posizionato come potete vedere qua sul ricettacolo, quindi tutti gli stami formano l'androceo. L'ovario con il pistillo forma l'organo riproduttore femminile, che sarebbe il gineceo. Come potete vedere, questo ovario, gli ovari, possono essere, in base al tipo di pianta, alla specie di pianta, possono essere di diverso tipo. Diciamo, riassumiamo tre tipi particolari di ovario, che è l'ovario supero, ovario seminfero e ovario infero. Qual è la differenza di questi tre ovari? Ovario infero, il fiore che ha un perianzio e androceo inseriti nella parte superiore dell'ovario. Come potete vedere, l'androceo è logicamente riferito a che cosa? Agli stami, quindi questo è praticamente l'ovario, quindi il perianzio è formato da che cosa? Petali e sepali, ok? Si trovano inseriti nella parte superiore dell'ovario. Invece, se voi osservate questo, l'ovario supero o fiore ipoginio, il perianzio si trova alla base dell'ovario, ok? Ovario supero, i fiori che ha perianzio e androceo inseriti nella parte inferiore dell'ovario, quindi ricordate che l'androceo è rappresentato dal numero degli stami, perché rappresenta l'apparato sessuale maschile e per quanto riguarda il perianzio, il perianzio si intende praticamente la somma, se vogliamo chiamarlo in questo modo, dei petali e dei sepali, ok? Sepali e petali messi insieme rappresentano il perianzio, il perianzio, sì, in questo caso è inserito alla base dell'ovario. Nell'ovario, invece, semi-infero abbiamo, diciamo, una via di mezzo, possiamo dire, no? Qualora non possasi definire né supero né infero, poiché è circondato in certa misura dal ricettacolo, come vedete, il ricettacolo è questo che si trova alla base dell'ovario, ok? Questo qui è il ricettacolo, ok? Quindi, per quanto riguarda invece l'infiorescenza, l'infiorescenza, i fiori possono raggrupparsi in determinate strutture che vengono chiamate infiorescenze. Allora, come potete vedere, l'infiorescenza del perio è un'infiorescenza definita corimbo, perché? Perché abbiamo un'aste centrale, dove da questo aste centrale, lo si può vedere anche in questa foto, se lo possiamo un po' ingrandire, vediamo un po'. In quest'aste centrale partono tutti i vari fiori e raggiungono praticamente un livello, lo stesso livello d'altezza, quindi questa struttura qua è una struttura a corimbo, quindi se vi chiedono che tipo di infiorescenza ha il perio, il perio ha un'infiorescenza a corimbo. Che tipo di fiore ha il perio? Il fiore ha un fiore ermafrodite. Vabbè, questo diciamo piccole nozioni che ci possono servire poi per capire meglio alcune cose, soprattutto nel momento in cui andiamo a fare delle attività di potatura è importante conoscere anche quello. Allora, oltre il fiore bisogna saper riconoscere anche le formazioni fruttifere dei rami, quindi quando ci troveremo di fronte a una pianta, quando vi troverete di fronte a una pianta, dovete saper riconoscere quali sono appunto le formazioni fruttifere dei rami, quali sono i rami che portano diciamo gemme a fiore e quali sono i rami che portano gemme per esempio a legno. Logicamente le gemme a fiore, allora qui potete vedere per esempio il brindillo, il brindillo come vi ho scritto qua sotto, è un ramo esile e flessibile lungo circa 15-30 cm. Il brindillo ha innanzitutto una gemma apicale che può essere una gemma apicale mista, che significa che questa gemma può generare sia fiori, può contemporaneamente generare fiori e foglie. E le gemme che poi si trovano lateralmente lungo il brindillo, generalmente sono tutte gemme a legno o che producono foglie, quindi non producono fiori, quindi sono gemme dal punto di vista della produzione improduttiva. Anche questo è un brindillo, quindi abbiamo la gemma apicale che può essere una gemma apicale mista. Alcune volte questa gemma apicale del brindillo può essere solo a legno, quindi a quel punto diventa un ramo improduttivo. Un altro tipo di rametto che si trova, che va osservato, è la lamburda. La lamburda, come ho scritto qua, la lamburda, e ora metto 3-4 cm, ecco. A differenza del brindillo porta una singola gemma apicale, che è questa qua, che è una gemma mista apicale, a fiore e foglie. Allora perché sono importanti le gemme a fiore, le gemme miste o a fiore? Perché è proprio dal fiore, appunto, che poi, come sapete, attraverso la fecondazione, si svilupperà il frutto. La lamburda è un rametto di 3-4 anni, quindi, di 3-4 anni, e qui possiamo dire anche un'altra foto, sempre, per quanto riguarda la lamburda, quindi, questa è un'altra lamburda, come potete vedere, quindi è un rametto di 3-4 cm, dove, nella parte, nella parte, diciamo, apicale, c'è una gemma, una gemma che è una gemma mista, generalmente, o a fiore, è una chiamata anche lamburde fiorali. Oh, logicamente, cosa succede a queste lamburde? Queste lamburde, negli anni, crescendo, si replicano, alla base della lamburda, si forma una struttura, questa qui, che poi potete vedere, dove si fanno ad accumulare sostanze di riserva, che vengono utilizzate, poi, dagli anni successivi, anche alle future lamburde, che si svilupperanno, anche sulla borsa, ok? Quindi, abbiamo detto, ricapitolando, abbiamo strutture che noi ci interessano, per quanto riguarda, poi, quando andremo a vedere bene la votatura, sono il brindillo, brindillo, che è un ramo di 15-30 cm, con una gemma apicale mista, quasi sempre mista, raramente possiamo trovare una gemma apicale a legno, poi abbiamo la lamburda, che è un rametto di 3-4 cm, con una singola gemma apicale, questa gemma apicale, che è una gemma mista, o fiore, o vengono chiamate anche i lamburde fiorali. Negli anni successivi, cosa succede? Succede che queste, alla base di queste lamburde, si formano delle strutture chiamate borsa, questa è una borsa, ecco, anche questa, come potete vedere, borsa. Negli anni si possono creare delle strutture chiamate zampa di gallo, che è questa qui, o la zampa di gallo, quando si formano diverse zampe di gallo in una struttura legnosa, è una caratteristica di una potatura eseguita male, perché questo tipo di struttura, logicamente, è una struttura che non genera, diciamo, gemme a fiore necessarie per poter fruttificare, ossia le genera, le genera strimmensite e non non sono produttive. Quindi, diciamo, la zampa di gallo è una forma di, come dire, di borsa e lamburda che va evitata sulla sulla ramificazione che poi noi vorremmo far fruttificare. Oh, quindi, io per quanto riguarda questa lezione, per questa prima lezione, mi fermirei qui. La prossima lezione avrà come argomento, ve l'ho scritto anche qua, le gemme nelle piante da frutto, metodi di esecuzione dei tagli, qualsiasi dubbio o domande potete inviarmi un'email su agricolturaernica.gmail.com Buono studio, ragazzi, e speriamo che questa lezione vi possa servire.